Miei cari signore e signori, bambini, anziani, cani, gatti, pesci, ci siete tutti? Siete comodi? O qualcuno o qualcosa vi impastidisce? Liberate la vostra mente, vi prego, lo spettacolo sta per iniziare e i colori, le vibrazioni musicali ve lo assentano, vi condurranno verso la gioia, basta volerlo. Il fuoco presto si speccherà nell'acqua, regalandovi sfumature mai viste. Ascoltate! E se vi sentite felici o quanto meno emozionati, impreparati allo splendore che questa luce vi mostra, non preoccupatevi, questa è ancora la vostra terra. Tenetevi per mano, avanti! Se vicino a voi c'è qualcuno che amate, dategli la mano. Andiamoci! Se vicino a voi c'è qualcuno che amate, dategli la mano. Non scappate da ciò che vi appartiene, ma provate a renderlo migliore. Noi tutti qui siamo parte dello stesso universo. Ne sentite il ritmo? Prendetelo, così, tutti insieme. Wow, bravi! Un solo corpo, una sola anima, una sola musica, stasera, qui per questa grande festa, mentre il nostro amore ancora brucia per questi luoghi, per questo impegno creativo. ammigliamo ciò che Dio e che gli uomini possono costruire, levando un grande grido per esprimere il nostro entusiasmo. Al mio tre, diciamo tutti insieme, N, D, F. Solo così, lo spettacolo avrà inizio. Siete pronti? Sì! Non vi sento! Siete pronti? Sì! Siete carichi? Sì! Uno! Due! Tre! N, D, F! N, D, F! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.